La sede è l'hotel Victoria perché qui sicuramente si sente ancora lo spirito di Alberto H. Wirt che ha fondato la scuola svizzera di Roma, che è stata l'anima della colonna svizzera di Roma. Per approfondire e discutere sia i temi che toccano più da vicino i cittadini svizzeri residenti all'estero ma che al tempo stesso sono temi politici importanti e di grande attualità nel dibattito svizzero. Grazie a tutti. Quindi il fatto che i cittadini svizzeri di Roma vengano a Villa Maraini ci riempie di gioia e ci fa sentire veramente a casa.